L'associazione Minemosine, ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione del Merito, da anni un punto di riferimento nel panorama italiano per la formazione del docente e personale scolastico. Forti di una ricca storia di sviluppo e esperienze, guardiamo con determinazione e curiosità al futuro, con l'obiettivo di offrire sempre meglio un ambito educativo. Crediamo che l'insegnamento sia il lavoro più importante del mondo. Siamo spinti dalla gioia di vedere insegnanti e docenti, insegnanti e studenti scoprire nuovi mondi e rendere l'apprendimento un'esperienza coinvolgente. Profondamente radicati nel nostro impegno verso l'innovazione, sviluppiamo soluzioni formative che mirano anche ad ispirare insegnanti e studenti a perseguire e raggiungere traguardi sempre nuovi. Per questi motivi abbiamo realizzato una soluzione software completa che aiuta a creare esperienze innovative, immersive, senza confini, in un mondo dove l'apprendimento didattico non è più limitato alle pareti di una classe, ma si estende oltre nel limitato spazio digitale. Diamo una nuova dimensione all'apprendimento, rendendolo un'avventura da vivere piuttosto che una lezione da ascoltare. Attraverso l'uso della realtà virtuale, attraverso l'uso di visori, i ragazzi indossano dei visori per poter entrare in questo mondo virtuale. Quindi al centro del sistema abbiamo questo software che utilizza una enciclopedia di risorse didattiche pronte per essere utilizzate per fare le lezioni. In più queste risorse didattiche sono delle immagini a 360 gradi, dei video a 360 gradi, o degli ambienti virtuali o degli oggetti 3D. Importante, non solo abbiamo questa enciclopedia, ma anche i docenti e perché noi insieme agli studenti possono creare nuovi contenuti da inserire nel sistema, perché il sistema è aperto a nuovi contenuti. Inoltre ci sono centinaia di lezioni già pronte all'uso, catalogate per ordine di scuola e per disciplina e anche qui il docente può decidere di utilizzare le lezioni a disposizione, oppure può creare delle nuove lezioni o ispirarsi a lezioni esistenti per crearne delle nuove. Infine abbiamo una sezione dedicata ai laboratori, delle professioni digitali. Questo per esempio per creare dei nuovi prodotti digitali, oppure per la fruizione di servizi digitali sempre in realtà virtuale, aumentata o mista. La fruizione dei contenuti, dicevo, avviene attraverso dei visori. Tramite il visore il ragazzo entra in questa dimensione e il docente tramite il software può pilotare contemporaneamente tutti i visori, comandare tutti i visori, in modo tale che tutti i ragazzi vedano la stessa cosa contemporaneamente. Infine, non meno importante, l'associazione Minemosine, sempre a fianco dei docenti nell'aiutare nel proprio lavoro, fornisce un servizio di assistenza e di formazione e di affiancamento al fine di rendere sempre più efficiente ed efficace l'utilizzo di questi strumenti didattici.